The Return of the King è un film per la televisione diretto da Arthur Rankin Jr. e Jules Bass. Questo film del 1980 è in realtà tratto da Il Ritorno del Re, una porzione del romanzo Il Signore degli Anelli del 1955 di J.A.R. Tolkien. Questo film è per certi versi una conclusione, se vogliamo, di quel percorso cominciato con il film The Hobbit di questi stessi registi e dal tempo stesso, volendo in qualche misura collegare i progetti, è questo il finale con le dovute differenze e libertà rispetto a quel film Il Signore degli Anelli del 1978 di Ralph Bakshi. Ma ci arriveremo a fare un pochettino dei confronti con il lavoro di Bakshi. Cosa troviamo in questo film? Troviamo innanzitutto una festa, un compleanno. Siamo infatti a Gran Burrone, se non sbaglio, Rivendell, e siamo al 129esimo compleanno di Bilbo Baggins, quell'Hobbit che abbiamo avuto modo di conoscere in The Hobbit per l'appunto di questi due registi. Questo personaggio, ormai invecchiato rispetto ai tempi di The Hobbit, avrà modo di scoprire come il suo vecchio anello, che in realtà gli dava la possibilità di divenire invisibile, si è andato perduto, dopo essere stato per un certo periodo affidato a sua nipote Frodo, infatti, è cominciata una serie di cose che qui ci verrà illustrata. In parte raccontata, in parte vissuta, questo film per l'appunto ci racconta le ultime tappe di fatto del viaggio del caro Frodo, con il fidato Sam e di altri compari che compaiono qua e là per l'appunto, tutti quanti in un viaggio, in un percorso volto a in qualche misura andare a distruggere quell'anello che dava la possibilità potenzialmente a un oscuro signore, l'oscuro signore Sauron per l'appunto di riaversi, ripristinarsi e quindi ritornare a soggiogare quella che è la Terra di Mezzo, l'universo narrativo di fatto il luogo in cui si svolgono queste vicende. Questo film è quindi un film avventuroso, un film avventuroso in animazione che, devo essere sincero, riesce a superare, per quello che è il mio gusto personale, la mia capacità di gradire effettivamente un adattamento in salsa animata delle avventure, delle vicende del Signore dei Anelli, e riesce a concludere in maniera un po' modesta, ma per quanto mi riguarda abbastanza soddisfacente, quanto visto con, per l'appunto, il The Hobbit precedente, con tutte le varie annotazioni legate a questo caso specifico. Io ho deciso di recuperare queste che sono state, in qualche misura, delle storie animate che, sono sempre più convinto, abbiano in qualche misura influenzato quello che è il mio Il Signore dei Anelli preferito, ovvero sia quella trilogia cinematografica, magari in versione estesa, diciamocelo, di Peter Jackson. I rimandi, da un punto di vista prettamente visivo, secondo me ci sono tutti, e se, come ripeto, quella è la versione di questa storia e che preferisco in assoluto, persino di più di quella versione originale, per l'appunto, targata unicamente J.R.R. Tolkien, gira che ti rigira quanto mi è stato proposto in questo The Return of the King, mi è abbastanza piaciuto. Da un punto di vista estetico ritroviamo quei disegni che abbiamo avuto modo di vedere ai tempi di The Hobbit, e sinceramente ho apprezzato quanto mi è stato mostrato, persino in alcuni frangenti quando abbiamo avuto delle digressioni, se vogliamo, da quello che è il piano realistico, fra virgolette, della narrazione, e siamo andati in un qualcosa di un po' simbolico, metaforico e piccheggiante, anche più di quanto effettivamente già questo film, con la sua narrazione normale, dava la possibilità di vedere. D'altro canto, abbiamo nuovamente quell'enfasi da un punto di vista acustico-musicale, con questa corna sonora, ma soprattutto questi canti che si avvicendano nel corso della storia, e che sono fondamentali. Sono fondamentali perché in alcuni frangenti ci danno la possibilità di comprendere cosa è accaduto in un film che comunque in alcuni frangenti è veramente molto di rascarico, questo sì. Questo progetto è sicuramente un qualcosa di modesto, stiamo parlando comunque di un film per la tv, da un minutaggio abbastanza limitato, immagino anche un pochettino per quanto concerne il budget ci siano state limitazioni, e se ho capito bene, complice forse la problematicità della resa con il film del 78 di Bakshi, c'è stato in realtà un po' un conflitto anche con la Tolkien Estate, coloro che detengono fondamentalmente, tutti quanti i diritti e in qualche misura gestiscono, gli eventuali adattamenti delle opere tolkeniane. Questo adattamento che si prende del libertà, perché ad esempio taglia fuori alcuni personaggi e di fatto, veramente in alcuni frangenti, spiega quello che doveva essere accaduto nel corso degli anni della vicenda, è un qualcosa che, come ho detto, si percepisce essere modesto, ma c'è non di meno anche qualcosa di modesto può essere, a mio avviso, abbastanza gradevole. E abbiamo qui che cosa? Abbiamo ad esempio dei personaggi, soprattutto gli Hobbit, che, nella loro piccolezza, per l'appunto, riescono a trasmettere tanto allo spettatore. Io ad esempio ho avuto modo di apprezzare molto Frodo in questo frangente, per certi versi, a momenti più della versione live action di Elijah Hood. Questo Frodo è un personaggio che, in alcuni frangenti, decisamente riesce a mostrare una faccia un po' atipica. A cosa mi riferisco? Ad esempio, quando avrà modo per essere stato di fatto più o meno salvato, il filato Sam, di riavere presso con sé l'anello, è un personaggio che si gira in maniera inferocita per certi versi e abbiamo modo di percepire effettivamente come l'oscurità sia veramente capace di plagiare anche un personaggio, in questa versione soprattutto, così puro. D'altro canto, abbiamo anche il filato Sam. L'amico assistente giardiniere, quel che è, di Frodo, è un personaggio Sam che veramente abbiamo modo qui di vedere in una salsa a tratti profondamente epica. Perché questo? Perché abbiamo, ad esempio, delle, più o meno visioni, possiamo dire così, delle possibilità che il nostro Sam ha pensando di sfruttare l'anello per poter contrastare la forza del male. Alla fine però, queste visioni, così come altre che ci saranno nel corso di questa visione, per l'appunto, sono un qualcosa che non si realizzerà esattamente come, per l'appunto, potrebbe realizzarsi. E abbiamo lo sviluppo di una storia che, a poco a poco, va avanti in alcuni frangenti, come ho detto, ricapitolando un po' tanto di quello che deve essere successo tra The Hobbit e questo film. Abbiamo poi dei personaggi però che mi hanno convinto un pochettino poco. A cosa mi riferisco, ad esempio? Quel re che ritorna, per l'appunto, il personaggio di Aragorn, è un personaggio che secondo me fa capolino, veramente per troppo poco tempo, e anche volendo, fra virgolette, limitare un pochettino la sua importanza a un qualcosa di simbolico, come il ritorno dell'ordine, della positività, eccetera, sinceramente avrei voluto un po' di minutaggio in più. D'altro canto abbiamo anche quell'elemento caratteristico sia in The Hobbit sia in The Return of the King che è la componente sonora con i cori e quant'altro. Quei cori, così tanto fondamentali in questo frangente, non solo per caratterizzare ma anche per spiegare, li ho trovati, in alcuni momenti, un po' troppo onnipresenti. Sinceramente avrei preferito vedere effettivamente quello che era accaduto nel passato rispetto a sentirmelo semplicemente raccontare. D'altro canto abbiamo in più di un'occasione qualche scamotage per andare a alleggerire un pochettino la trama, alleggerire un pochettino i vari dettagli che sono in qualche misura fondamentali. Personaggi omessi, oggetti straordinari che vengono praticamente utilizzati semplicemente dicendo da chi si sono ottenuti, ma magari quelle persone che hanno dato gli oggetti manco compaiono, se non ricordo male, diciamo che ci sono dei metodi un po' sbrigativi per liquidare in alcuni frangenti appunto alcuni elementi fondamentali che, in altre trasposizioni e nel libro, ovviamente nel romanzo originale, hanno effettivamente un background che viene giustificato a poco a poco che la storia va avanti. Inevitabilmente, quindi, a letto di aver percepito come positive certe cose, aver apprezzato il design, determinati frangenti, la componente acustica e personale, eccetera, questo Direttore Love the King è un qualcosa di modesto, come ho detto. Un qualcosa di modesto che io personalmente ho apprezzato e decisamente lo preferisco a quel Il Signore delle Annelli di Ralph Bakshi del 78. Capisco che quello fosse un progetto probabilmente un po' tronco, diciamo, per via di limitazioni che sono arrivate a causa di diritti o di problemi di soldi o quant'altro, però sinceramente avere un approccio un pochettino più leggero, forse per certi versi, come è stato fatto con The Hobbit e con The Return of the King, da questi due registi, secondo me, è forse il modo migliore, almeno era il modo migliore, chissà in futuro, di adattare l'opera tolkieniana. Un'opera tolkieniana così complessa, sfaccettata, ricca di dettagli, ricca di elementi e quant'altro, che da soli meriterebbe probabilmente un'espansione dedicata, e che qui, in questa salsa animata, possiamo dirlo, raggiunge un compimento. Un compimento sicuramente modesto, ma che comunque, siccome al netto di alcuni dilungaggi, in alcuni frangenti veramente un po' dilatate, Gira che ti rigira, mi sono divertito, e quindi The Return of the King, di Arthur Rankin Jr. e Julius Bass, è un film che, tutto sommato, mi sento di consigliarvi. Se siete fan del Signore dei Annelli in generale e volete vedere una riproposizione, come ho detto, ripetuto, più volte, modesta, questa è la versione, forse, che maggiormente, per quelle che sono le vicende del Signore dei Annelli, mi sento di consigliarvi, anzi, senza alcun dubbio, perché, sinceramente, così poco mi ha convinto, a tutto tondo, quel Signore dei Annelli di Bakshi, e così tanto, invece, in proporzione, mi hanno convinto questi due, Arthur Rankin Jr. e Julius Bass, che sono riusciti, secondo me, a dare un qualcosa di piccolo, ma tutto sommato, capace di emozionare. E quindi, del Return of the King, eventualmente, vi consiglio di andarvelo a recuperare. Se vi capita, guardatevelo.